Ciao ragazzi, oggi abbiamo deciso di giocare la partita più importante, quella della fame nel mondo. Per farlo mettiamo in questa scatola questi alimenti. Zucchero bianco, fagioli, lenticchie, ceci, piselli, sale, olio di semi, riso e farina. Servono 75 euro da mandare in Siria per una famiglia di 5 persone per un mese. Aiuteci a riempire la scatola donando sul sito del World Food Program e regalati un Natale bellissimo!